La sua storia comincia proprio qui, alla soglia dei suoi trent'anni. Io non posso entrare in una sala operatoria. La gravidanza sarebbe la soluzione migliore per debellare i fastidiosi sintomi. Ho bisogno di un uomo. Quindi fai un figlio o ti operi? Che cosa può fare? Che cosa può fare?